ciao buongiorno a tutti bentornati sul mio canale oggi facciamo una restituzione particolarmente incazzata e particolarmente sudata perché ho fatto la camminata terapeutica c'è un po di vento ma dovrebbe essere tanto mi dovrebbe sentire bene intanto vi invito a iscrivervi al canale a condividere e a condividere i video abbiamo superato la quota 100 siamo a 101 mi sembra e piano piano arriveremo anche a 200 ok e di cosa cosa vi restituisco oggi beh oggi parliamo di media parliamo di media perché c'è a roma la manifestazione del popolo delle mamme con vari invitati se non ho capito male no l'altra volta ho detto che non si sapeva chi l'avrebbe chi l'aveva in detta perché nel manifesto non c'era non c'era esattamente non si capiva poi sto popolo delle mamme non so neanche bene comunque c'era una lista di firmatari che non so se è quella io se è reale dicevo che c'era anche Hamilton secondo me era meglio non ci fosse ma magari non è vero magari era una lista fake ma comunque non è interessante comunque in uno dei video precedenti sapete che io sponsorizzo l'idea che il fronte alternativo a questo sistema corporativo deve unirsi in un unico soggetto dietro la costituzione e di diritti umani e basta no e quindi affermo questa necessità e affermo che ho affermato che le manifestazioni sostanzialmente non servono a niente perché perché non hanno una reale rappresentanza politica perché la l'azione politica della società civile che deve andare in parlamento e deve andare nelle serie istituzionali a modificare la politica del paese altrimenti rimaniamo con mille soggetti magari anche ben intenzionati con mille cortei magari fossero mille allora va bene ma quindi rimaniamo una marea di di attività che però non modificano niente a livello politico non incidono e non incidono neanche sui media tant'è che ieri di sera abbiamo visto l'ineffabile mentana abbiamo sentito no raccogliere questa cosa con l'epipedo di negazionistiche domani cioè oggi a roma si sarebbero riuniti i negazionisti allora questa è una cosa questa che fa mentana e che fanno in media è una cosa squallida è una cosa che andrebbe censurata in mille modi perché di fatto diventa un crimine nei confronti dell'informazione e non mi si venga a dire a parla di libertà di espressione perché anche un bambino capirebbe che una libertà senza responsabilità diventa non libertà per qualcuno ok diventa o diventa un'azione che porta ad un'azione che porta ad una conseguenza coercitiva perché se uno si prende troppa libertà magari compie qualche reato fa qualche disastro e viene fermato oppure diventa una libertà senza appunto senza responsabilità però la libertà del più forte che non verrà mai redarguito o ricondotto all'interno di un modus operandi che in cui lui stesso sia capace di autodeterminare la sua l'equilibrio fra libertà e responsabilità e quindi di fatto è così perché perché questo è semplice capirlo perché di fatto se si invocasse se mentana e chi per lui tutti quelli che ormai ai critici non del covid ai negazionisti non del covid ma del modo in cui il sistema ha affrontato questa cosa perché non credo esista al mondo una persona mediamente informata che possa dire che il covid non c'è e questo virus è partito indipendentemente da chi l'abbia fatto se sia di laboratorio o no tutte queste cose comunque indipendentemente da tutto c'è questo virus e c'ha una sua eziologia particolare e c'ha una sua azione particolare affrontabile benissimo senza tutto questo terrore l'ho detto mille volte in maniera completamente diversa senza bloccare i paesi quindi sarebbe un'influenza leggermente diversa da quella degli altri anni se non fosse per tutta una serie di mancanze del sistema che l'hanno portato e poi ha dei conti assolutamente sballati sappiamo che dentro i morti covid ci ci mettono tutto quindi alla fine nell'epoca della scienza delle statistiche dei dati abbiamo la cosa più praticamente che influisce più adesso come adesso sull'umanità in generale che è abbassata su una delle complete fissioni ma i negazionisti secondo mentana e secondo tutti gli altri giornalisti media che non convergono sulla narrazione sulle misure prese dal sistema ma dissentono su molte cose variamente perché le persone sono tutte diverse caro mentana e cari giornalisti allora se noi vediamo bene no questa azione che fanno i media che fa mentana si può ricondurre si può chiamare tranquillamente un mobbing mediatico perché che cos'è il mobbing sapete no ormai è una cosa è una cosa è una del mobbing è una delle cose della modernità su cui ormai siamo abituati a confrontarci no nessuno ha mai analizzato a livello mediatico veramente perché c'è tutto questo mobbing quindi l'azione dei media dei social media no quindi l'amplificazione del meccanismo che a livello popolare sociale sociale no e quindi sai no da ragazzini no c'è quello grasso quello brutto quello strano quello diverso che viene a un certo punto gli viene attaccato un'etichetta dal più cretino del gruppo o dai più cretini del gruppo e questa etichetta diventa un minus diventa una una sostanziale diminuzione di dignità per questa persona e diventa il suo appellativo no e quindi viene vessato poi si arriva anche alla violenza tutto no però anche quello che resta un po strisciante no sempre il mobbing è e quindi abbiamo una diminuzione della dignità della persona questa cosa è una violazione della dignità della persona una violazione dei diritti umani ed è una violazione quindi di una delle più grandi fonti del diritto perché sui diritti umani si basa la costituzione quindi si dovrebbe basare l'ordinamento giuridico ok nel momento in cui un giornalista mainstream si prende quindi una redazione perché sappiamo benissimo che alcune parole sappiamo benissimo o dovremmo saperlo e se non lo sappiamo svegliamoci ma quando noi guardiamo un telegiornale non guardiamo delle persone che si prendono lì la briga di leggere le ultime notizie ma noi guardiamo un prodotto una confezione curata nei minimi dettagli dove difficilmente sentiamo qualcosa che non sia già predeterminato discusso accettato e su cui la redazione non si sia confrontata quindi nel momento in cui il primo giornalista sulla faccia della terra o imbeccato da qualcuno che gli sta dietro che poi sappiamo che i grandi media tutti i media principali fanno capo a meno di 10 gruppi mondiali quindi non c'è una reale pluralità dell'informazione c'è una pseudo pluralità dovuta a una miriade di soggetti giornali radio web televisioni miriadi che però sostanzialmente finta perché dietro ha veramente pochi gruppi e sono tutti controllati dalle stesse famiglie dalle stesse entità dai stessi fondi speculativi che detengono come dicevano i video precedenti detengono anche il potere di estrarre distribuire i 17 metalli più preziosi per questa epoca tecnologica quindi c'è tutto questo sistema chiamatemi complottista quindi per mentana io sarei un negazionista ma sarei anche un complottista perché oserei evidenziare queste macro contraddizioni del mondo cosiddetto liberale che però di fatto sono reali quindi ritornando al mobbing nel momento in cui il direttore un telegiornale si permette di ridurre la dignità e l'espressione che è variegata di alcune persone di un comitato di un popolo che si riunisce con un aggettivo spregiativo lui di fatto sta riducendo la dignità di queste persone intanto perché generalizza poi perché mistifica quindi dice una sostanziale menzogna che diventa poi però l'etichetta diventa l'appellativo per queste persone quindi e questo fa il paio con il mobbing no che ho descritto prima a livello popolare e quindi poi si trasforma a livello sociale in persone che appena inizi a dire qualcosa che dissente un po che non rientra nel nella nella narrazione quello che lui pensa che debba pensare per la cosa ecco che subito ti individua come negazionista complottista o quello o quello che si vuole e addirittura per per la manifestazione di berlino si è parlato di nazisti di no quindi poi è in america anche sono nazisti tutti quelli che ce l'hanno quindi i democratici i trampiani ad esempio no quindi sono tutte queste azioni questi crimini comunicativi sono dei crimini comunicativi perché sono determinano la diminuzione di dignità del soggetto preso del soggetto investito da questi aggettivi e se fossimo in un modo migliore intanto avremo un'informazione pubblica completamente diversa e decente da questi media privati che determinerebbe se esistesse determinerebbe che almeno una grossa fetta della popolazione dopo poco tempo si renderebbe conto della diversità della qualità dell'informazione della reale pluralità della reale correttezza perché non i giornalisti non arriverebbero a questi bassi espedienti retorici e quindi determinerebbe una una influenza anche nei confronti dei media degli altri media principali che in ogni caso dovrebbero essere ricondotti alla pluralità smembrati le associazioni le società i grossi gruppi o le grosse holding che detengono un sacco di media e le grosse società per azioni che detengono media industrie banche assicurazioni andrebbe tutto smembrato perché si violano lì si viola veramente la la pluralità la libertà quella quella parte di mercato che deve restare libero quello che non è così grosso come adesso perché tanta parte delle attività umane andrebbero stata statalizzate in maniera trasparente ovviamente non in maniera socialista come potrebbe intendere qualcuno in maniera un po' diversa quindi tutta questa azione dei media di fatto è un mobbing di fatto è un crimine perché ho spiegato prima perché ho detto esattamente cosa viola quindi è un crimine e gli organizzatori di questa manifestazione che è degnissima per quanto purtroppo non servirà niente però in ogni caso ben vengano ma ce ne fossero mille il problema è che loro dovrebbero fare una lettera aperta a mentana in media al presidente della repubblica ai presidenti delle camere alle corti costituzionali per indicare l'esatta azione di mobbing intrapresa da mentana e da tutti quelli come lui e possibilmente in ogni caso far sì che l'ordine dei giornalisti o qualcuno o qualche autorità o anche il presidente della repubblica se il presidente della repubblica dicesse beh è bene che tutti quei giornalisti politiche che parlano di negazionismo nei confronti di chi è critico delle politiche dei governi rettifichino pubblicamente no e già avremmo cioè vi rendete conto che questo sistema si regge su un insieme intricato di sostanziali reati e di sostanziali complicità ma che basterebbe che una o due di queste grosse complicità facesse un passo per determinare il sostanziale crono di tutta questa narrazione perché se un giorno Mattarella indicesse un suo comunicato a reti unificate e dicesse una cosa del genere e ammettesse la sostanziale il sostanziale squilibrio la sostanziale menzogna con cui i media hanno affrontato tutta questa narrazione del covid denunciasse i conflitti di interesse che hanno i media che hanno i governi che hanno i comitati tecnico scientifici che hanno i ministri con l'industria farmaceutica con le banche con la finanza cioè se Mattarella dicesse questo all'improvviso scoppierebbe una bomba ovviamente verrebbe indicato da Mentana e company come il negazionista principale però forse ci sarebbe qualche centinaio e migliaio di persone se non qualche milione che comincerebbe a rendersi conto ad uscire un po' da questa da questo tunnel di tunnel angoscioso di appiattimento culturale di appiattimento di informazione di consenso assolutamente disinformato e quindi magari ci potremmo un po' svegliare tutti quanti e capire che il mondo che ci viene raccontato non è esattamente così e quindi le cose così stanno e quindi di nuovo mi rivolgo ai soggetti del fronte alternativo che non attaccano i media che continuano a parlare del mess della politica dell'economia senza tirare in ballo senza veramente indicare i fattori le basi che stanno alla alla radice del consenso del consenso allucinante, completamente sbagliato e completamente sbilanciato per tutto quello che stanno facendo i media ai nostri figli adesso i media e il sistema, il governo, i ministeri ai nostri figli adesso con la riapertura delle scuole, con le mascherine, con i distanziamenti cioè c'è una marea di cose che sono totalmente sbagliate che sono dei veri e propri crimini democratici che non vengono denunciate ma anzi vengono propagate dai media e finché il mentana di turno non sarà ricondotto all'ordine non per abolire la sua libertà di parola ma per far sì che la sua responsabilità bilanci la sua libertà perché i media dovrebbero essere i primi a bilanciare libertà e responsabilità finché non arriveremo a questo non si andrà da nessuna parte buon futuro di controllo a tutti controllo decameratico, controllo delle idee, controllo del intimo degli aspetti bioetici controllo di tutto, lo vediamo dove siamo destinati anche grazie ai criminali dell'informazione come in mentana che non riescono a fare un salto di responsabilità e che probabilmente non riescono neanche a guardarsi allo specchio la macchina o forse sì perché probabilmente sono così pieni di se stessi che hanno degli specchi che gli rispondono in maniera del tutto particolare non come i nostri va bene, questo era lo sfogo quotidiano quindi sui media va fatta un'enorme azione riformatrice io nel mio libro cerco di indicare le linee guida per una riforma dei media anche sostanziali rispetto proprio alla qualità dell'informazione alla composizione dell'informazione alle metodologie con cui si informa alla scelta perché di scelte parliamo non è che parliamo di altri e quindi ripeto dei media pubblici diversi non appiattiti sul giornalismo mainstream paramericano filoamericano introdotto in Italia da Medias che ha distrutto praticamente il che ha costretto gli altri ad accodarsi che ha distrutto la narrazione e l'ambito civile e democratico del paese quindi da quando esiste da quando si è strutturato bene questo sistema il declino è stato veloce perché poi in tutti gli altri settori economici, sociali proprio perché è sostenuto da questo sistema apparentemente plurale ma sostanzialmente criminale ok vi invito a riflettere su queste cose vi invito di nuovo ad iscrivervi al canale e al blog collegato e da condividere i miei video se vi piace quello che dico e come lo dico e ci vediamo ci vediamo alla prossima forse oggi pomeriggio farò un altro video sul cinema su un altro film che ho visto se riesco ad inquadrare bene il target quello che cosa che mi ispira che cosa voglio dire e poi vedremo ci vedremo un più avanti su questi schermi ciao buona giornata a tutti alla prossima